ciao a tutti raffaile benvenuti a questo nuovo video come al solito iscrivetevi al canale è importante mi raccomando e seguitemi su instagram nuova settimana nuovo episodio di star trek star trek discovery e nuova recensione ormai appuntamento fisso nel fine settimana questo questo momento con questa breve recensione sull'episodio di star trek in questo episodio innanzitutto vediamo l'inizio come succede anche negli ultimi episodi c'è sempre un po di fanservice infatti ci informano che la discovery è entrata a pieno diciamo regime nel nella flotta stellare ed è stata completamente aggiornata con i nuovi sistemi le nuove tecnologie quindi la discovery adesso ha le gondole indipendenti che vuol dire che non sono più collegate alla nave da da un oggetto fisico da un'unione fisica ma c'è diciamo l'unione avviene con chissà quale sistema tutti tutti e tutte le console sono state aggiornate con i nuovi sistemi tattili olografici che diciamo abbiamo visto sulle altre navi e tutti i diciamo gli membri dell'equipaggio hanno il nuovo badge che contiene di tutto contiene l'olopad contiene il tricorder contiene il teletrasporto addirittura e su cui poi vedremo un po più avanti ci sarà anche qualche scenetta onestamente non mi spiego invece perché viene aggiornato tutto viene cambiato tutto con con allineandosi con i nuovi standard della flotta stellare della federazione ma tutto l'equipaggio da discovery mantiene la divisa vecchia diciamo così la divisa di discovery e non quella della nuova flotta stellare va bene forse operazione nostalgia diciamo o comunque operazione merchandise non possono cambiare nuovamente le divise forse non lo sappiamo comunque questa è una particolarità in questo episodio torna il personaggio di book che avevamo visto conosciuto nei primi episodi nel primo in particolare con con michael e che appunto sembrava interessa abbastanza interessante da come prosegue diciamola da come è andato questo episodio sembra effettivamente che sia comunque un personaggio interessante questo questo book infatti devo dire che l'episodio si svolge con principi diciamo come protagonisti propri personaggi di book di filippa e in parte anche di michael ovviamente essendo appunto filippa e anche book due dei personaggi più di spessore maggiormente interessanti della serie devo dire che questo episodio ne trae grande grande beneficio infatti a mio avviso è un episodio forse migliore da parecchio tempo di star trek discovery anche meglio di quella di quello della settimana scorsa che già era più che sufficiente infatti l'episodio è innanzitutto devo dire ben ben equilibrato ossia c'è una parte di esplorazione scientifica esplorazione dello spazio ricerca di diciamo informazioni su quello che è successo all'epoca del crollo e quindi con anche diciamo la curiosità e il mistero che continua che inizia un po a dipanarsi e che dà allo spettatore ulteriore ulteriori informazioni ma senza eccedere senza rivelare tutto in un colpo come invece a volte è successo e quindi lasciando quel quella giusta attesa per i prossimi episodi e poi c'è anche un una giusta dose di temi etici di discussioni morali che però si basano poi sui fatti di quello che succede non su cose troppo campate in aria e quindi devo dire che l'episodio grazie a questo equilibrio grazie a questi due personaggi quello di book e quello di filippa che sono fra i protagonisti principali ne giova tantissimo tanto da essere appunto ripeto a mio avviso uno dei migliori episodi di star trek discovery quindi non non voglio neanche farò diciamo tutti gli scongiuri del caso ma sembra che la serie abbia in abbia intrapreso una strada diciamo così positiva gli sceneggiatori abbiano capito come vanno costruiti gli episodi ma soprattutto come vanno costruiti i dialoghi perché in questo episodio a mio avviso anche i dialoghi sono sono ben scritti rispetto invece ai dialoghi da sop opera dei dei precedenti episodi dei primi episodi e comunque di di tutti gli episodi in generale di discovery nelle stagioni precedenti quindi anche dialoghi diventano interessanti scritti bene che non 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 sono diciamo campati per aria su facili sentimenti o su temi dei massimi sistemi di cui nessuno capisce niente sono diciamo dialoghi che si mantengono nel concreto di quello che succede nell'episodio anche se in qualche modo c'è 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 una parte di esplorazione dei sentimenti dei personaggi come scopriremo poi alla fine infatti in precedenza era abbastanza strano che book e michael dopo un anno passato insieme sulla nave diciamo non non avessero instaurato una relazione diciamo che andava oltre l'amicizia che all'inizio diciamo raccontavano in questo episodio scopriamo anche qualcosa in più su sul personaggio di ad ira nel diciamo nella nella relazione con il suo ragazzo immaginario diciamolo così e nella interazione con stamets per esempio scopriamo c'è un nuovo mistero che inizia a crescere a farsi a farsi largo ovvero quello di filippa cosa succede a filippa perché vediamo che a delle visioni sembra sembra che in qualche momento si estranei dalla realtà e quindi scopriamo che il grande crollo probabilmente non è un non è stato un evento che su che avvenuto nella galassia ma sembra aver avuto origine da un punto preciso dell'universo e quindi questo è il prossimo passo di di studio diciamo che cerchiamo di capire la la discovery e poi c'è nel finale c'è un po troppo non sentimentalismo ma c'è un eccesso di sentimenti diciamo così perché forse anche se comunque si è instaurato fra barnum e saru una relazione un rapporto che era di fiducia e adesso viene a mancare la reazione di barnum a quelle poi che è la decisione di saru mi sembra legger mi è sembrata leggermente eccessiva anche se poi comunque abbiamo sempre visto che michael è un personaggio che esprime molto i propri sentimenti quindi potrebbe anche starci come nota diciamo così nota da non positiva che diciamo su cui io punterei come cosa da migliorare è diciamo lo schema dell'episodio perché anche questo episodio c'è lo schema che la discovery anzi michael scopre qualcosa che vuole indagare vuole approfondire in questo caso vuole andare a salvare book ma anche vuole andare a recuperare questa scatola nera che contiene informazioni forse essenziali sul crollo il saru non vuole non dà il permesso a michael perché è in attesa di ordini dalla flotta stellare per intervenire eventualmente su un pianeta e quindi michael desubbidisce fa come vuole e va a fare la missione per il corpo per conto suo poi torna e quindi diciamo si prende le conseguenze delle sue decisioni è un diciamo un cliché che forse sta sta venendo troppo utilizzato perché poi alla fine sempre questo michael che non è d'accordo sugli ordini di subbidisce e fa di testa sua inizia ad essere ripetitivo quindi su questo dovrebbero un attimo cambiare registro trovare anche un altro modo di organizzare l'episodio e altra cosa che ho trovato fastidiosa è il siparietto col teletrasporto di di quell'alieno credo si chiami il linus linus che diciamo si con il badge che contiene ora il teletrasporto ogni tanto compare nei posti più disparati diciamo un siparietto dovrebbe servire come momento comico ma onestamente non far ridere anzi personalmente l'ho trovato molto fastidioso vabbè questo come unico punto di critica a questo episodio che comunque ripeto è forse il migliore episodio visto fino adesso da molto tempo in star trek discovery speriamo continuino così la strada è quella giusta continuate così bisogna un po migliorare anche devo dire nella sceneggiatura nella trama perché a volte c'è ancora qualche buco di trama che qualche buco di sceneggiatura che ancora si evidenzia diciamo nell'episodio però non ci soffermiamo più di tanto perché comunque diciamo latte la nostra attenzione poi è stata indirizzata sul resto della narrazione che questa volta non è noiosa e quindi uno più di tanto sui buchi di trama non si sofferma però se miglioriamo anche quelli sicuramente gli episodi diventeranno ancora migliori bene questo è quanto spero che anche a voi sia piaciuto l'episodio comunque ditemelo nei commenti nel caso lasciatemi un like un dislike iscrivetevi al canale condividete questo video sui vostri social come al solito e seguitemi su instagram grazie a tutti ciao e ci vediamo alla prossima recensione